io specialissimo ragazzi siamo qui per un video che ragazzi vi farò vedere adesso allora questo video parla cioè vi faccio vedere la vittoria assurda che ho fatto con compagno di team luci alessandro aspettate adesso ragazzi prima andare avanti assai allora il seguito drone no collega gioco ok vediamo il gioco di luci angio praticamente anima rapido rischio un po più avanti perché qua scorciante ecco qui inizia il casino se mi parte iniziamo da qui e ragazzi qui stavo facendo materiale stavo facendo materiale qua in questa partita c'è una cosa qualcosa di assurdo cioè ma non è fatto delle chi della vittoria raga qualcosa che dopo vedrete verso la più che la penultima chili poi alla fine ho fatto una piccola trappola poi ragazzi devo capire perché il nemico lo porta sulla casa e tornato a me mi porta malpona giù qua ho provato ad andare verso questo che magari mi da un po più potenza non c'è no ti porta sempre qua 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 mi hitano da dietro vado aiuto il nemico a terra 1 vado qua mi prendo le cose modifico quando mi modifica proviamo di far questo però è forte quindi non ce la faccio la faccio qua voglio saltarvi sopra però si è costruita il tempo all'intorno e qui faccio un headshot che però mi ricordo che era col pompa raga vabbè se il gioco dice così qui non c'è più niente praticamente qua facciamo un portino in scudo mi scelgo vado sotto vado a cercare il lutto di quell'altro mi frego tutto quelle cose più belle prendo il cecchino faccio un giro vado sopra io c'è anche per poca vita persa però lo faccio perché tanto scialla e sto avuti qua controllo la zona faccio le mini fortini modifico controllo cecchino 1 però non ci riesco non vado avanti che sennò poi si blocca poi scendo e vado in safe con il mio amico poi raga facciamo qualcosa di assurdo qua sono stati veramente bravi qua lui mi dice ma perché spacchi e poi vabbè scendiamo perché c'è quello con il motorino che ci poteva dare soltanto che era stupido se ne andava fuori safe lo hitto troviamo sto loot trovo sto loot io come buon furbo gli dico di andare su e andiamo su mi faccio una benda perché se lo coglione ho preso tanno mi riuscivo a buildare in alto no raga no no raga è qui è qui è qui è qui dai dai ragazzi dovete guardare dovete vedere questa kill è assurda non è qua poi vedo là qui sbaglio carico faccio così lancio granate per ora ancora niente raga vediamo se si rallenta ancora un po raga è 50 è 30 è 20 è 10 è 10 ragazzi ragazzi è qui eh lo vedo ragazzi pronti vedo il mio titolo uscire prendo il cecchino ma adesso lo vedete in 1,1 boom ragazzi e questa è la kill poi vabbè raga andiamo velocissimo fino alla fine faccio qua ci pushano mentre cura il mio amico che viene accettinato io prendo un botto di armi metto la trappola raga me ne vado giù perché ero ero mezzo morto e boom vittoria reale per trappola vi killo con la trappola ragazzi questa è la vittoria bella ragazzi ui